Il corso di turismo sostenibile è un corso creato e strutturato per tutti i protagonisti attuali e futuri del settore turismo, un comparto fondamentale del nostro paese che sta ridisegnando i suoi confini di applicazione. È un corso che si prefigge di accompagnare tutti gli operatori, piccole e medie imprese pubbliche e private verso le giuste pratiche trasformative e sostenibili, volta inserirlo all'interno dell'ecosistema del mercato sostenibile, nuova direzione epocale che stiamo vivendo dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, migliorandone l'efficienza e potenziandone così il suo sviluppo. Il corso ha come focus pratico di fornire le linee guida fondamentali per attuale tale transizione affinché l'impresa turistica italiana possa ridisegnare la progettazione del comparto per creare un'industria sostenibile del turismo, sviluppandone così il potenziale e rispondendo ai suoi nuovi bisogni. Nasce così la stretta collaborazione tra Sostenabitali e ITR, un'unione dedicata a dare una risposta a questa esigenza, accompagnare questo gigante industriale nel proprio percorso di trasformazione sostenibile.